Si riparte dalla base. È la parola d'ordine del PD Umbro dopo la storica sconfitta alle regionali del 27 ottobre scorso che per la prima volta vede il centrodestra entrare al governo di Palazzo Donini con la coalizione guidata da Donatella Tessei. E a nove giorni dal voto il commissario del PD, Walter Verini, traccia il bilancio di un verdetto delle urne la cui genesi però non può essere limitata agli ultimi anni, né al solo oggettivo influsso dell'inchiesa su Sanitopoli che ha portato peraltro ad anticipare anche il voto. È stata una sconfitta storica della sinistra le cui radici purtroppo datano da anni e tuttavia bisogna attrezzarsi a fare l'opposizione a una destra che mi auguro governi bene l'Umbria ma su questo molti dubbi, un'opposizione rigorosa nell'interesse degli Umbri e noi dobbiamo rifondare radicalmente le ragioni della presenza della sinistra in questa regione, non solo del PD. Il PD pur ammaccato con il suo 22,3%, quasi un quarto degli elettori, deve svolgere la sua parte. Adesso ci sarà un congresso, io spero un congresso aperto, il più possibile di discussione libera, libera però che guardi al futuro e tutti noi chi come me è in uscita e chi invece le generazioni più giovani innanzitutto tanti nostri sindaci sono sul pezzo, dovranno svolgere questa discussione. Io mi auguro sapendo che è in gioco l'interesse della sinistra in questa regione, il futuro della sinistra e non i singoli destini personali. Verini non ha nascosto dunque le problematiche all'interno del partito e dell'intero arco politico della sinistra Umbra e non ha evitato la richiesta giunta da alcuni esponenti del PD Umbro come il sindaco Di Gualdo Presciutti, quella di fare un passo indietro. Io ho parlato con tanti sindaci che sono protagonisti della nostra vita politica e amministrativa quotidiana. Ho ricevuto quasi 400 tra mail e sms che mi ringraziano per il lavoro sfatto, generoso, disinteressato durante questi mesi difficilissimi. Ho ricevuto una lettera di ringraziamento non formale da chi mi ha nominato, che è il segretario nazionale Zingaretti. Ho ricevuto la solidarietà di una ventina di segretari di circolo. Mi creda, non ne funzionano tanti di più in questa regione purtroppo. Insomma, io rispondo a questi, a chi mi ha nominato e mi ha ringraziato, a tanti nostri sindaci, il nostro tema non sono le scorciatoie. Sarebbe come dire, ma Verini adesso fa un gesto, si dimette come se la nostra crisi dipendesse da questi quattro mesi di commissariamento. No, voi sapete perché io sono stato nominato commissario e sapete quali sono i gravi problemi della sinistra e del PD in questa regione da anni e noi tutti, ognuno per la sua parte, ha le sue responsabilità. Conta poco dire io l'avevo detto, io mi sono battuto contro. Non è questo il punto. Il punto è capire da domani che facciamo, a partire ovviamente dalle generazioni più giovani. Il mio ruolo di commissario è in esaurimento. Io l'ho detto da messi. Con le elezioni si conclude politicamente. Poi si apre una fase di congresso e lì il partito sarà nelle mani degli iscritti, degli elettori e mi auguro dei cittadini.